Che cosa capita? Oh, 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 Bella! È mezzo morto! È mezzo vivo! Che stupore! Dentro morto è fuori viva! Voglio vedere anche io! Che imbroglio maledetto! Ma che cosa? Signor Zanetto! Là dentro c'è un altro signor Zanetto! Cosa? Lasciate che anch'io vada a vedere e sapremo ogni cosa! Voglio al cielo che il pianetto sia vivo! Benidio, si arrabbiata! Voglio che gli viva! Convedulo troppo tardi! Quello che si è dentro l'osteria! Morto, disteso! Si è mio fradeo Zanetto! E voi allora chi siete? Io so il signor Tonin! Fradeo del povero signor Zanetto!